Riuscite a vivere vendendo libri, anche se nessuno legge? Sì, allora, siamo tre soci, due dipendenti, due collaboratori esterni, nel senso un po' più tattici, diciamo. No, bene, aspettiamo Natale, perché si legge solo Natale, quindi confidiamo che questi ultimi due mesi siano strepitosi. Da quanti anni ho parato? No, da gennaio. Ah, quindi è proprio una cosa recentissima. Poi ti dico, ti racconto, oppure mando dei curriculum. Ah, ok, sì. No, no, comunque va abbastanza bene. Ti ripeto, prima di avere una... Anche perché c'è tutto un meccanismo di pagamenti molto di razione, insomma, è complicato, quindi per dire che va molto bene, devo aspettare ancora qualche mese. Però quando si dice che non si legge, è vero, però non così tanto che non si vendono i libri? Beh, sai, dipende. Non è che c'è un gruppo industriale, editoriale, da centomila dipendenti, cioè, abbiamo una dinamica molto... Poi sai, il nostro hashtag è Brianza, ci prendiamo, siamo i tironici, nel senso che stiamo attenti, facciamo le cose che ci possiamo permettere, siamo molto cauti. E abbiamo anche la fortuna di non partire da zero, perché tutta quell'attività di relazioni che avevo prima... L'hai riconvertita? Sì, quando dicono, i Cinque Stelle sono nati da nulla, no? Grillo conosceva anche, insomma, tutto l'elettorato, aveva un'attività da anni in giro per il paese, lo stesso in misura piccolissima, insomma, io qualche numero di telefono ce l'ho, insomma, qualche accesso a contatti e strumenti evoluti, insomma, la fortuna, anche un po' forse di lavoro che ho fatto, è in gioco. Però ci sono tante, per esempio, tu dicevi che eri il più vecchio, io sono il più vecchio di People, sono tutti giovanissimi, le due ragazze, le nostre dipendenti, sono super giovani e super brave, oltretutto, hanno fatto le scuole, che fanno il lavoro per cui hanno studiato, tutti i luoghi comuni che facciamo saltare, il nostro illustratore delle copertine, che è bravissimo, è un ragazzo con poco più che vent'anni, insomma, è tutto molto bello. Tutti di sinistra? Sì, oggettivamente sì. No, però un po' sì, beh, ma insomma, anche perché la nostra linea editoriale lo è, sarebbe un po' difficile scrivere. Grazie.